La bellezza di una saggezza superiore. Alvaro e Giuseppe erano seduti al tavolino del baro uno accanto all'altro e bevevano un caffè. Il braccio sinistro di Alvaro era posato sui gradi della divisa di Giuseppe. A tratti tenevano le mani intricciate. Qualche passante li guardava infastidito. Mi sei mancato, disse Alvaro in tono accorato. Anche tu a me, Alva, per questo non volevo incontrarti. Serve solo a peggiorare le cose. Alvaro scosse la testa e Giuseppe notò il suo aspetto profondamente triste. Gli occhi verdi erano cupi e i capelli castanochiari tagliati corsi accentuavano il pallore della pelle sotto la barba. Per la millesima volta Giuseppe si domandò perché non aveva rotto definitivamente con Alvaro quando era entrato in aeronautica e perché aveva ceduto alla sua preghiera di fare un ultimo tentativo di salvare il loro rapporto. Ripensò all'aspro litigio che aveva avuto con il colonnello che non ammetteva che un militare potesse essere omosessuale. Vedi Alvaro disse l'omosessualità inizia ad essere accettata dalla gente comune ma non è tollerata nell'esercito e tantomeno in aeronautica dove un pilota deve essere maschio a tutti gli effetti. Perché lo interruppe Alvaro? Io conosco alcuni piloti dell'Italia che sono omosessuali e svolgono egregiamente il loro servizio. Sì ma la forma coscienza dei militari è diversa. Non a caso si sceglie di diventare un militare. Che cos'è la forma coscienza? È il grado di evoluzione che ognuno si è conquistato. Forma coscienza che si aggrega a tutte le forme coscienza che sono simili e che insieme, quando sono molto numerose, creano la realtà che viviamo. Come sei astruso? disse Alvaro. Non sono astruso. Cerco solo di farti andare per un attimo oltre la mente per farti intuire la bellezza di una saggezza superiore. Se capirai che anche il rapporto che hai con me non è a caso, ma serve a darti la possibilità di riparare antiche incomprensioni che hai avuto in vite precedenti, scioglierai il legame che hai con me. Tutto questo ti può dare una prospettiva diversa di ciò che fatichi ad accettare e ti renderà più sereno nei tuoi giorni. Alvaro districò le dita da quelle di Giuseppe. Si guardarono intensamente e Alvaro tentò di sorridere. Lavorava come Stuart in una compagnia low cost ed era incredibile come si era sentito immediatamente a suo agio quando dieci anni prima aveva conosciuto Giuseppe durante un viaggio a Parigi. Non se la sentiva di fare a meno di lui. Perché dici che il nostro incontro non è stato a caso? Chiese. Perché ci siamo venuti incontro da vite precedenti in cui ci siamo amati, magari da uomo a donna, da donna a donna, da madre e padre a figlio, da amico ad amica. Insomma ci siamo molto amati e per questo ci amiamo ancora. E adesso mi vuoi lasciare? No, credo che l'archetipo transitorio di cui il nostro rapporto faceva parte sia diventato un archetipo permanente.